C'è una domanda che mi sono posto in queste ultime settimane e in particolare in occasione del giorno della memoria. Perché Israele è stata posta sul banco degli imputati in così poco tempo dopo l'atto terroristico di Hamas nei suoi confronti, nei confronti della popolazione civile, il 7 ottobre di pochi mesi fa? E perché così facilmente viene dimenticato il diritto all'esistenza e alla sicurezza di Israele e la giusta attenzione ai diritti del popolo palestinese, che voglio ricordare e ribadire, però si trasforma in un rifiuto contro gli stessi diritti del popolo ebreo, spesso passando da una critica legittima alla politica dello Stato di Israele a un odio antisemita. E ancora, mi sono chiesto, ma perché la Cina comunista e la Russia nazionalista, insieme a tutti gli stati anti-occidentali, sembrano uniti in una posizione politica ostile a Israele dopo il 7 ottobre? Insomma, potrei continuare, ma mi sembra evidente che nei confronti di Israele ci sia o un atteggiamento di razzismo ideologico di antica data, oppure un rifiuto, perché Israele, che certamente non è esente da colpe e da errori, però viene identificato come un baluardo della civiltà occidentale in mezzo al mondo islamico. E questa è la vera colpa che gli attira tanto odio. Ora, chiediamoci, ma che cos'è il razzismo? Il razzismo è una forma mentis fondata sull'odio contro il diverso, contro l'altro, che semplicemente sarebbe bene se non esistesse. Si tratta di una ideologia moderna che nasce durante il periodo illuminista, quando la società si scristianizza molto velocemente e così lascia spazio a ideologie diametralmente contrarie all'insegnamento di Cristo, che portò un cambiamento radicale nella mentalità del suo tempo, proprio affermando la stessa dignità di ogni uomo, di ogni popolo, qualunque fosse l'origine etnica di quest'uomo oppure il suo status sociale. Però non si può essere contro il razzismo a intermittenza. Se è razzista, e lo è certamente il nazionalsocialista che odia gli ebrei, lo è anche il terrorista di Hamas, che si vanta il 7 ottobre durante l'attacco, lo abbiamo sentito tutti, di avere ucciso dieci ebrei, neppure dieci israeliani, ma dieci ebrei. È razzista anche chi, senza sfociare nel terrorismo, cerca di negare di fatto a Israele il diritto di difendersi, portandolo davanti al tribunale dell'AIA con l'accusa di tentato genocidio nei confronti del popolo palestinese. Allora io non voglio negare l'esistenza di un'enorme questione morale sul tema di una reazione militare all'interno della striscia di Gaza che sia proporzionata e che protegga il più possibile la popolazione civile. Ma non posso non constatare come dal 7 ottobre l'odio contro Israele sia cresciuto in modo esponenziale e ci si sia già dimenticati di quanto è accaduto in quel tragico giorno. Allora, l'impressione suffragata da tanti fatti, mi fa pensare che l'odio che sta alla base del razzismo si stia dirigendo sempre di più verso Israele, che con la sua sola esistenza rappresenta in Medio Oriente un'alternativa all'islamismo più o meno radicale, che ricorda al mondo come sia un valore che una popolazione possa esprimersi politicamente scegliendo il proprio governo, cosa che non avviene in tutti gli stati del Medio Oriente, che ricorda l'esistenza di Israele che la libertà, o meglio le libertà ancora garantite nel sistema politico occidentale sono un principio da difendere. Dai campus americani dove si organizzano manifestazioni pro-Palestina, alle piazze italiane dove manifestano i giovani palestinesi, l'estrema sinistra dei centri sociali e gli esponenti di Forza Nuova, di Casa Pound, alla corte penale internazionale che processa Israele per tentato genocidio alla vigilia dell'anniversario del genocidio di 6 milioni di ebrei, allora sembra crescere in Occidente un disprezzo di sé, della propria storia, delle proprie radici, come un odio rivoluzionario verso la propria identità. Io credo di avere ripetuto fino alla nausea che l'Occidente di oggi è un pallido ricordo della civiltà nata attorno ad Atene, Roma, Gerusalemme durante i secoli della prima evangelizzazione. Ma questo non è un buon motivo per preferirle la barbarie dei sistemi totalitari o di chi uccide e mette in galera i propri nemici. Abbiamo già attraversato questa stagione drammatica e abbiamo saputo sconfiggere le tentazioni terza forziste durante la guerra fredda. Oggi forse la storia si sta ripetendo con attori non troppo diversi da quelli di allora. Buona settimana a tutti.